Nell'estate del 1263 un sacerdote boemo di nome Pietro da Praga iniziò a dubitare della reale presenza di Gesù nell'ostia e nel vino consacrati. Il sacerdote si recò allora in pellegrinaggio a Roma per pregare sulla tomba di Pietro e fugare i suoi dubbi. Il soggiorno romano lo rasserenò e intraprese il viaggio di ritorno ma percorrendo la via Cassia si fermò per nottare a Bolsena dove i dubbi di fede lo assalirono nuovamente. Il giorno successivo celebrò la messa nella grotta di Santa Cristina evento che fu poi immortalato da Raffaello nel 1512 nel celebre raffresco della messa di Bolsena ed è ricordato da un'epigrafe latina apposta nel luogo del miracolo. Secondo quanto tramandato dalla tradizione al momento della consacrazione l'ostia cominciò a sanguinare sul corporale. Così impaurito e confuso il sacerdote cercando di nascondere il fatto concluse della celebrazione avvolse l'ostia nel corporale di lino e fuggì verso la sacristia e durante il tragitto alcune gocce di sangue caddero sul marmo del pavimento e sui gradini dell'altare. Fu così che Pietro da Praga si recò subito dal papa Urbano IV che si trovava ad Orvieto per riferirgli l'accaduto e il pontefice allora inviò a Bolsena il vescovo di Orvieto per verificare la veridicità del racconto e per recuperare le reliquie. Urbano IV dichiarò la soprannaturalità dell'evento e per ricordarlo l'11 agosto 1264 estese a tutta la chiesa la solennità chiamata Corpus Domini nata nel 1247 nella diocesi di Liegi per celebrare la presenza reale di Gesù nell'eucaristia in contrapposizione alle tesi di Berengario di Tur secondo le quali la presenza eucaristica di Cristo non era reale ma solo simbolica. Papa Urbano IV inoltre affidò a Tommaso d'Aquino il compito di preparare i testi per la liturgia delle ore e per la messa della festività e stabilì che il Corpus Domini dovesse essere celebrato il primo giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Poi nel 1290 papa Niccolò IV fece edificare il Duomo di Orvieto per custodire il corporale e successivamente il Duomo fu ampliato con la cappella del corporale nel 1364 quindi le reliquie si conservano nel Duomo di Orvieto e nella Basilica di Santa Cristina a Bolzena. Nella cappella del corporale a Orvieto sono custoditi l'ostia, il corporale e i purificatoi che in seguito nel 1338 furono collocati nel reliquiario di Ugolino di Vieri dove si trovano attualmente e il reliquiario venne posto a partire dal 1363 nel tabernacolo in marmo che si trova nella stessa cappella. L'altare dove sarebbe avvenuto il prodigio invece fu collocato fin dalla prima metà del 1500 nel vestibolo della Basilica Ipogea di Santa Cristina a Bolzena mentre quattro lastre di marmo macchiate di sangue sono conservate dal 1704 all'interno della cappella nuova del miracolo a Bolzena e una quinta lastra fu donata nel 1574 alla parrocchia di Porchiano del Monte in provincia di Terni.